in alto in alto in alto in alto più sopra non vi si vede più in alto Mi chiede! 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 Che vuole? Grande! Chi è stato? Ne sono due! Forse, avete fatto le foto? Grandi! Caffè! Caffè con il g 거기! Siamo fatto tutti! Gli voglio dire pure di venire qua e dirci una battuta.